La nuova pista ciclabile di Pieve Dugliara è diventata realtà, pronta per essere inaugurata ufficialmente. I lavori di allargamento della curva all'interno della frazione e inglobando una parte dell'area parrocchiale sottostante hanno consentito la creazione di una corsia per le biciclette lunga 270 metri che consentirà di collegare in sicurezza Pieve Dugliara a Rivergaro, sfruttando in parte percorsi già esistenti. Un'opera da 500.000 euro, finanziata interamente dalla provincia, pensata con un duplice scuola scopo. Oltre alle due ruote, la pista sarà destinata anche ai corti e ai funebri, che dal sagrato della chiesa potranno raggiungere direttamente il cimitero senza percorrere la provinciale. L'inaugurazione avverrà sabato prossimo in notturna, un'ambientazione insolita che servirà anche a valorizzare la nuova illuminazione della pista, pensata per favorire il passaggio delle biciclette anche nelle ore serali, specialmente in estate. Messa alle 18, benedizione della nuova opera e discorsi ufficiali delle autorità e poi Buffet per tutti organizzato dai volontari dell'Anspi.